Questo è un grande progetto che rientra nell'ambito della ricordificazione urbana, dei grandi centri urbani. Jessica è appunto lo strumento che beneficia dei fondi comunitari e ovviamente siamo stati molto contenti di poterlo impiegare, queste risorse nell'ambito di un efficientamento energetico e ammodernamento di tutto il sistema di illuminazione pubblica della città. Il nostro ruolo come banca di territorio è quello di segnalare, portare avanti attraverso le componenti più importanti, come nel nostro caso i creabanchi impresa, progetti che possano cadere sul territorio. Noi siamo molto contenti di affiancare questa iniziativa che significa migliorare la vivibilità sul nostro territorio perché il progetto prevede naturalmente la riqualificazione energetica e l'illuminazione in tantissimi quartieri disagiati. Ecco il nuovo progetto per la riqualificazione ed il miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione dell'intero territorio cittadino, comprese le gallerie e gli orologi storici stradali. Il vecchio appalto comportava annualmente costi di energia per circa 11 milioni e mezzo di euro e spese per la gestione per circa 6 milioni e mezzo, mentre con la nuova gara, dal terzo anno in poi, si avrà un risparmio fisso di 6 milioni e mezzo di euro oltre all'incremento degli standard della sicurezza e dell'affidabilità con la sostituzione di 20.000 sostegni e di parte dei cavi di distribuzione della rete elettrica all'adeguamento normativo all'innovazione tecnologica con 100 sistemi di regolazione ed efficientamento e la telegestione degli impianti. Le priorità con cui verrà attuato il piano sono state indicate dall'amministrazione che ha scelto come punto di partenza le gallerie stradali, le periferie urbane a partire da Scampia e di luoghi a maggiore attrazione turistica e del centro storico. Da questo mese parte l'appalto con cui l'intero territorio cittadino sarà completamente mutato nella sua illuminazione pubblica. Più luce, quindi più sicurezza. Più risparmio energetico, più risparmio economico, più innovazione, più tecnologia. Si parte da tutte le gallerie di Napoli, si parte dal centro direzionale, dalle periferie e dai luoghi turistici e culturali. In due anni si arriverà in tutta la città, quindi una vera e propria giornata fondamentale che mette insieme il Comune di Napoli, il mondo della cooperazione delle banche, quindi Banca di Credito Cooperativo, ICREA, Banca Impresa e Sitelum che si è giudicato la gara d'appalto per circa 111 milioni di euro. Un'opera strategica e come avete potuto ascoltare dalle parole dei nostri interlocutori, Napoli si è mostrata all'altezza in prima linea per capacità di programmazione, competenza, efficacia, serietà. Si può investire, anzi conviene investire nella nostra città per creare economia, lavoro, sviluppo e crescita del territorio.